Musica Buonasera, bentrovati alla seconda edizione del nostro TG6 parlando e apriamo parlando di Padre Pio del viaggio della reliquia del Santo di Pietrelcina che questa mattina ha lasciato San Giovanni Rotondo e dopo 5 ore di viaggio ha raggiunto nel primo pomeriggio Roma ci sarà l'esposizione della reliquia di Padre Pio del Santo di Pietrelcina nel corso del giubileo che si sta svolgendo a Roma questa esposizione durerà dal 5 al 10 di febbraio fortemente voluta da Papa Bergoglio, da Papa Francesco e durante il viaggio c'è stato ovviamente da San Giovanni Rotondo fino a Roma il transito in Abruzzo dalle nostre parti e noi siamo andati a vedere proprio cosa è accaduto al momento del passaggio del lungo corteo blindato proprio nei pressi della stazione di servizio a lento est dell'autostrada 14 vediamo le spoglie di San Pio da Pietrelcina hanno lasciato questa mattina la basilica lui intitolata San Giovanni Rotondo in direzione di Roma dove sono arrivate nella basilica di San Lorenzo al verano intorno alle 16 di questo pomeriggio venerdì 5 saranno trasportate nella basilica di San Pietro in Vaticano l'arrivo oggi a Roma è stato seguito da una liturgia di accoglienza delle reliquie di San Pio e di San Leopoldo Mandic presieduta da frate Gianfranco Palmisani ministro provinciale dei frati minori cappuccini della provincia romana per il trasporto sono state messe in campo misure del tutto simili a quelle previste per i capi di stato con tanto di no-fly zone su San Giovanni Rotondo e su Foggia sono stati circa 500 i chilometri percorsi per arrivare nella capitale ed il trasporto delle reliquie è stato scortato da uomini delle forze dell'ordine oggi al passaggio del corteo lungo l'autostrada 14 in territorio di Francavilla al mare presso l'area di servizio a lento est poco prima delle 14 abbiamo intercettato mentre era in viaggio verso la capitale padre Carlo Maria Laborde frate superiore dei gruppi di preghiera di padre Pio è stato molto emozionante perché abbiamo visto soprattutto la risposta della gente che dovunque esce fuori ad aspettare il passaggio di padre Pio quindi è commovente vedere come il popolo di Dio si sente richiamato da questo fatto e risponde con grande generosità due cappuccini che vengono celebrati a Roma entrambi hanno dedicato la propria vita alla misericordia sì, è proprio per quello che Papa Francesco ha voluto la loro presenza a Roma in occasione proprio del Giubileo proprio perché sono stati due santi che vicini a noi nel tempo e tutti e due i contemporanei che hanno consacrato tutta la loro vita proprio al servizio del Ministero della Confessione, della Penitenza quindi sono veramente due esempi meravigliosi in questo senso è commovente questa risposta popolare durante questo splendido viaggio è già bello vedere come la gente spontaneamente senza nessun tipo di organizzazione particolare è andata incontro proprio per salutare per soffermarsi un attimo dinanzi alle spoglie di padre Pio quindi forse più di quanto non ci aspettavamo come è stato sempre attuale quello di padre Pio? padre Pio è un santo amatissimo dal popolo di Dio lo stesso anche San Leopollo quindi credo che la gente risponde spontaneamente proprio perché nutre questo affetto, questa devozione, questo amore per padre Pio quindi senza essere richiamata spontaneamente va incontro a padre Pio nella speranza di poter vederlo, di poter quasi toccarlo in questa circostanza Parliamo ora di trasporti sul caso Ryanair la decisione della compagnia irlandese di tagliare il numero di voli e le rotte dall'aeroporto internazionale d'Abruzzo di Pescara sono arrivate oggi ai nostri microfoni le dichiarazioni del presidente della saga Nicola Mattoscio che ha spiegato le motivazioni e le ragioni che hanno portato la compagnia di volo ad una decisione che ha coinvolto anche altri aeroporti italiani Francesca Romanatesti Parla il presidente saga Nicola Mattoscio a 24 ore dalla notizia della riduzione dei voli dall'aeroporto internazionale d'Abruzzo per volontà di Ryanair dopo le tante polemiche e voci circolate chiarisce subito qualche aspetto come quello dei mancati incontri con i vertici della compagnia di volo i fatti dicono che è un falso clamoroso Ryanair in realtà non aveva intenzione di incontrare nessuno perché aveva già assunto delle decisioni che ha comunicato a livello nazionale e continentale peraltro sulla base di un contemporaneo comunicato fatto dal CEO di Ryanair a Dublino nelle prime ore della giornata di ieri con cui si rendeva noto a tutto il mercato il cambiamento di strategia di mercato La notizia di Pescara si aggiunge a quella di Cagliari anche in quel caso Ryanair ha comunicato il taglio delle rotte tagli che Ryanair motiva con l'aumento della tassazione imposta dal governo nazionale Non so cosa deve fare la regione e la regione è un soggetto diverso e non ho titolo per interpretarne il pensiero e gli intentimenti posso dire quello che fa che continuerà a fare la società saga almeno finché ci sarà la mia presidenza noi abbiamo cambiato radicalmente la strategia industriale Infine il futuro dello scalo di Pescara il timore è quello del declassamento che subirebbe con la perdita di passeggeri meno voli uguale meno utenti ma Ryanair monopolista del low cost chiede incentivi economici per garantire le sue tratte ma l'Europa taglia i cosiddetti aiuti di Stato Il tema è noto la questione degli incentivi date a compagnia tutte le compagnie low cost europee sappiamo che è argomento sensibile sappiamo che è in materia disciplinata dalle linee guide dell'Unione Europea e di conseguenza sappiamo che è in materia anche poi normata dai singoli paesi in conseguenza di queste linee guide noi restiamo sullo stesso argomento impegni della regione Abruzzo per impedire l'annunciata soppressione della base Ryanair dell'aeroporto di Pescara su questo argomento i gruppi regionali di Forza Italia Abruzzo Futuro e Nuovo Centrodestra hanno infatti inviato al presidente del Consiglio regionale la richiesta di convocazione straordinaria dell'Assemblea cambiamo pagina siamo alla cronaca giudiziaria ha preso infatti il via oggi davanti alla corte d'assise di Chieti il processo a carico dei genitori e del nonno di Francesco Spinelli il bimbo di 3 anni morto il 24 maggio del 2014 dopo essere stato investito da un treno regionale in prossimità della stazione San Marco a Pescara la madre del piccolo Loretta De Rosa è accusata di abbandono di minori mentre il padre Virgilio Spinelli e il nonno Cristoforo Spinelli sono accusati di concorso in omicidio colposo i tre sono difesi dagli avvocati Antonio Valentini e Luca Sarodi oggi la corte d'assise presieduta da Geremia Spiniello ha ammesso le prove testimoniali e si è riservata sulla richiesta dell'avvocato Sarodi di effettuare un esperimento giudiziale con sopralluogo sul posto della tragedia nello specifico l'accusa rappresentata dal PM della Procura della Repubblica di Pescara Andrea Papalia ha chiesto e ottenuto di ascoltare 32 testimoni mentre la difesa ha citato a testimoniare 5 persone il pediatra del bimbo e alcuni familiari degli imputati e noi andiamo all'Aquila per parlare di cronaca ha aggredito due persone ed un agente della Polizia di Stato intervenuto per riportare la calma è stato un mendicante bulgaro a causare il parapiglia il fatto è avvenuto davanti ad un supermercato Daniela Rosone giornata movimentata quella di ieri per le forze dell'ordine aquilane un mendicante bulgaro ha aggredito due persone prendendo a morsi un poliziotto il fatto è accaduto all'esterno di un noto supermercato aquilano l'uomo un trentenne stava chiedendo le lemosina con deco nazionali quando ha avuto un diverbio con un passante prima lo ha preso a pugni e poi ha aggredito una ragazza dipendente della banca lì vicino è andata male anche al poliziotto intervenuto per sedare la lite preso a morsi dal bulgaro anche a montereale comune dell'aquila tanto lavoro per i carabinieri un uomo aggredito infatti con un coltello un imprenditore zootecnico della zona con il quale c'erano vecchi rancori secondo le ricostruzioni dei carabinieri a casa di un terreno confinante i carabinieri lo hanno arrestato con l'accusa di lesioni e minacce aggravate fortunatamente le lesioni per la vittima non sono gravi nei confronti dell'anziano già noto ai militari per piccoli pregiudizi di polizia dopo una notte passata in una stanza di sicurezza della stazione dell'aquila il magistrato ha convalidato l'arresto rimettendolo in libertà la cosa poteva però sfociare in tragedia l'anziano dopo lo scontro verbale è passato alle vie di fatto con il coltello l'aggredito dapprima non credeva che sarebbe stato colpito ma quando lo ha visto scagliarsi contro ha cercato di difendersi nella collutazione è caduto a terra sferrando calci contro l'aggressore ma rimediando un colpo alla gamba riuscendo comunque a divincolarsi a quel punto l'aggressore si è allontanato il ferito è riuscito ad arrivare da solo al distretto sanitario di Montereale dove gli sono stati prestati i primi soccorsi durante il tragitto ha avvisato i carabinieri della stazione locale che prima si sono sincerati delle sue condizioni di salute ascoltata poi la sua testimonianza sono andati a casa dell'anziano che ha collaborato ammettendo responsabilità e consegnando il coltello con cui aveva colpito l'antagonista anche per i buoni rapporti che ha con i militari di Montereale guidati dal comandante di Falco dall'Aquila ci spostiamo a Chieti dove i consiglieri di Forza Italia si rivolgono alla procura il caso coinvolge l'ex PIPAB l'istituto riunito San Giovanni Battista e la questione ruota attorno alla illegittimità secondo i forzisti della nomina di Gianni Di Labio che è stato inserito nel CDA dell'istituto Forza Italia presenta un esposto alla procura per illegittimità nel caso inerente l'ex IPAB San Giovanni Battista il caso ruota intorno ad una nomina che ai forzisti proprio non va giù proprio il 14 ottobre del 2015 è stato nominato un membro del CDA che secondo noi non ha i requisiti per poter sedere in quel CDA nel frattempo come gruppo di Forza Italia abbiamo presentato in autotutela una denuncia dove mettevamo a conoscenza appunto di questa anomalia nella nomina però alla data di oggi non abbiamo avuto nessuna risposta infatti il 25 novembre abbiamo depositato presso la procura di Chieti un esposto dove chiediamo a loro di indagare se ci sono dei ravvisali per quanto riguarda dei reati o dell'incombatibilità nella nomina un'altra osservazione Forza Italia la fa in merito al caso dello stanziamento di fondi per lavori di missa in sicurezza degli istituti che ospitano gli anziani fondi che forse dovrebbero essere destinati prima a pagare gli stipendi arretrati che hanno causato tante proteste e in seconda istanza quei lavori nel frattempo come tutti voi sapete pochi giorni fa abbiamo appreso anche da voi che la dottoressa assessore Marinella Scrocco hanno liberato circa 700 mila euro a favore degli istituti riuniti per dei lavori di manutenzione all'interno però forse quei soldi erano meglio versarli come da documento che noi abbiamo dei debiti che loro mandano nei confronti della regione di circa 2 milioni e 300 mila euro per far fronte anche oggi ai pagamenti agli stipendi arretrati che hanno i dipendenti di quella struttura Parere positivo dei tecnici dell'Ustif dopo i collaudi al via libera per le corse notturne della funivia del Gran Sasso ascoltiamo ora il servizio e le interviste realizzate da Gianfranco Coccolone che saranno al centro della puntata della trasmissione Il Ficcanaso in onda domani sera Per chi conosce e frequenta il Gran Sasso la serata del 2 febbraio rappresenta una data storica da ieri infatti sarà possibile utilizzare ed usufruire della funivia anche dopo le 17 orario che normalmente segnava la chiusura dell'impianto a causa della scarsa visibilità Il finanziamento è di fonte comunale e l'organizzazione del cantiere direzione dei lavori responsabili del procedimento è un'emanazione del Comune dell'Aquila quindi in questi lavori non c'è un intervento diretto dell'azienda l'azienda ovviamente sarà beneficiaria di questa miglioria della funivia che consentirà l'esercizio notturno L'esercitazione è sostanzialmente una prova di soccorso cioè si simula in condizioni notturne utilizzando questa nuova illuminazione una procedura di evacuazione delle cabine principali dell'impianto che insomma si simula un'operazione di evacuazione dell'impianto in fase notturna Dopo i collaudi dei tecnici dell'Ustif l'ufficio speciale trasporti a impianti fissi è arrivato il via libera all'illuminazione notturna della funivia più volte rinviata per i ritardi nel rilascio dei pareri da parte dell'ente parco e soprintendenza al via dunque le corse notturne che consentiranno di ampliare l'offerta turistica per le strutture in quota e di aggiungere un altro tassello importante nell'ambizioso programma di rilancio della stazione sciistica di Campo Imperatore E piano piano anche con questa cosa qui l'illuminazione che è bellissima insomma tutte queste polemiche sulle farfalle, sui giri, gli uccellini è uno spettacolo Il lavoro non è soltanto quello dell'illuminazione l'illuminazione inserita in un lavoro più grande era quello del modernamento ventennale di 4 milioni di euro è stato un progetto condiviso col parco con il quale abbiamo ragionato e abbiamo trovato una quadra per la soluzione sia di consentire l'esercizio notturno all'impianto funiviario sia garantire il rispetto della fauna e della flora e dell'ambiente sul quale andavamo ad intervenire E ora ci spostiamo a Teramo perché dopo la denuncia del Movimento 5 Stelle l'inchiesta della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura della Repubblica ha confermato che molti impianti sportivi del capoluogo aprutino non hanno le necessarie certificazioni sulla vicenda è tornato a parlare il consigliere comunale pentastellato Bernardini Grazie al controllo operato dal Movimento 5 Stelle per quanto riguarda l'operato amministrativo sono emerse diverse irregolarità certificate appunto dalla Procura della Repubblica e dalla Guardia di Finanza le quali ci dicono che diversi impianti del Comune di Teramo sono innanzitutto sprovvisti del certificato di agibilità e anche sprovvisti della certificazione di idoneità statica la quale appunto certifica che l'edificio è staticamente idoneo all'uso per il quale è destinato ora noi da questo chiederemo immediatamente una verifica da parte dell'ufficio tecnico perché non capiamo come faccia il Comune di Teramo a dare in gestione esterna delle strutture che sono prive di questa certificazione ovviamente addossando sulle spalle del gestore ogni responsabilità civile, penale e amministrativa inoltre l'indagine ha fatto emergere il fatto che nell'ultimo periodo in cui il Comune ha gestito gli impianti sportivi le procedure per il calcolo della quota che le società dovevano pagare sia stato fatto in assenza di qualsiasi misura analitica e ovviamente amministrativa corretta in quanto gli importi sono stati calcolati su fogli bianchi in assenza di sottoscrizione sia da parte dei dipendenti comunali sia da parte delle società sportive che ovviamente se ne assumevano la responsabilità e addirittura in alcuni casi sono stati effettuati degli sconti sugli importi senza avere le autodichiarazioni delle società sportive noi pensiamo che questo modo di amministrare sia veramente assurdo quando poi ci vengono a dire che mancano i soldi e ovviamente chiederemo una verifica sulla responsabilità di quanto è stato effettuato dagli organi amministrativi nel prossimo question time dell'11 febbraio Aumento dei casi di dipendenza dal gioco d'azzardo e sostanze stupefacenti e questo è il quadro preoccupante che emerge da un'indagine del CERT dell'Aquila che ha promosso campagne di sensibilizzazione tra i giovani e gli studenti delle scuole medie e superiori Giorgio Alessandri Si allarga nel territorio aquilano la piaga della dipendenza dal gioco d'azzardo 10 nuovi casi si sono aggiunti nel 2015 ai 26 già in carico dall'anno prima la CERT dell'ASL dell'Aquila che ha deciso così di potenziare la sua attività di prevenzione intervenendo in particolare su ragazzi adolescenti la ASL ha spiegato alla dirigente del servizio Daniela Spaziani ha scelto di portare nelle scuole la testimonianza di pazienti usciti dal tunnel delle dipendenze o che sono in fase di recupero dipendenza dal gioco da alcol o da cannabinoidi e così l'abisso e poi la risalita è stato raccontato davanti ai ragazzi delle medie e da persone che ci hanno messo la faccia il lavoro su studenti di 11 e 13 anni è stato portato avanti nei piccoli comuni e nei paesi decentrati del capoluogo regionale San Demetrio Nevestini San Pio delle Camere Barisciano e Capestrano delle patologie legate al gioco d'azzardo si è parlato in particolare a San Pio delle Camere con 22 alunni di scuola media il gioco d'azzardo spiega a Spaziani oltre a essere in continuamento è un disturbo molto più ampio di quello rappresentato dai numeri perché notevolmente sottovalutato tanti rinunciano a curarsi sia per la vergogna di uscire allo scoperto sia per la falsa credenza che si può smettere in qualunque momento trattandosi di una dipendenza senza sostanza le problematiche correlate all'uso di cannabinoidi e ai consumi eccessivi di alcol invece sono state esaminate a Barisciano con 20 ragazzi delle seconde e terze medie su questo fronte vi sono molti campanelli di allarme si sta abbassando l'età delle prime ubriacature che avvengono oggi a 11 anni e il consumo di cannabis diffuso tra ragazzi di 13 anni nel 2014 il CERT ha seguito 156 pazienti per alcol e 313 per droga per complessivi 469 utenti gli operatori della ASLA da gennaio a maggio del 2015 hanno coinvolto negli incontri di prevenzione più di 100 allievi nelle scuole medie inferiori del territorio e più di 90 studenti dell'istituto superiore Leonardo da Vinci colecchi dell'Aquila oltre a numerosissimi insegnanti le testimonianze con pazienti in fase di recupero conclude la Spaziani sono state molto apprezzate da ragazzi e docenti ogni confronto si è concluso con tantissime domande poste dai giovani e con un dibattito costruttivo che si è tradotto in indicazioni sui lavori didattici da svolgere a scuola e apriamo la pagina della cronaca un 82enne di Montesilvano è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale tra due automobili che si è verificato ieri nella cittadina adriatica lo scontro è avvenuto in via Vestina nei pressi dell'incrocio con via Mascagni l'automobile su cui viaggiava l'uomo insieme alla moglie si è scontrata con un altro mezzo poco chiara al momento la dinamica dell'accaduto per far luce su quello che è successo sono a lavoro gli agenti della polizia locale di Montesilvano inizialmente le condizioni dell'uomo non sembravano gravi poi il peggioramento ed il ricovero nel reparto di chirurgia dell'ospedale Santo Spirito di Pescara ancora cronaca 34 fra pecore e capre sono morte nelle prime ore di questo pomeriggio in un contrada salvigno di popoli nel Pescarese a causa di un incendio di sterpaglie che si è sviluppato per cause al momento sconosciute nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco di Pescara del distaccamento di Alanno e degli agenti del corpo forestale dello Stato alcuni animali sono morti nel rogo altri sono stati invece salvati grazie proprio agli immediati soccorsi all'intervento delle forze dell'ordine i vigili del fuoco stanno ricostruendo l'accaduto lasciamo la cronaca parliamo ancora di politica torniamo a Teramo perché l'associazione Teramo Nostra ha organizzato per sabato prossimo un'assemblea dibattito nella propria sede per parlare del referendum sulla riforma costituzionale Renzi Boschi spiegare le ragioni del no al referendum costituzionale che si svolgerà in autunno per bloccare un progetto di deforma costituzionale che finisce per influire fortemente sulla stessa forma di Stato si sta assistendo ad una torsione autoritaria nel nostro paese che passa attraverso questo progetto di legge costituzionale del governo noi sabato sera spiegheremo le ragioni del no esamineremo punto per punto la deforma costituzionale e spiegheremo ai cittadini aprendo un dibattito insieme ad essi che le riforme non non sono un valore in sé nel senso che le riforme devono innovare devono andare avanti devono adeguare la seconda parte della costituzione ai principi fondamentali della prima non devono deformare la costituzione e deformare la stessa forma di Stato pluralista che ci è costato la resistenza partigiana che ci è costato migliaia di morti e lo snaturamento di questa costituzione vuol dire tornare indietro non andare avanti i riformatori non sono loro loro sono i deformatori in effetti loro tornano indietro tornano verso lo Stato autoritario attraverso questo progetto di legge di revisione costituzionale noi sabato sera spiegheremo punto per punto quali sono le ragioni perché si invitano i cittadini a dire no a questa riforma costituzionale così come è già stato detto no dai cittadini ad un'altra riforma costituzionale simile a questa nel 2006 parliamo ora di scuola laboratori all'avanguardia per l'istituto alberghiero di Popparozzi di Teramo la dirigente scolastica dell'istituto auspica l'apertura di un ristorante gestito direttamente dagli studenti Elisa Leuzzo terzo laboratorio di cucina per l'istituto di Popparozzi di Teramo grazie al contributo della provincia ma anche ai fondi della scuola sì oggi abbiamo inaugurato il terzo laboratorio ma è un primo laboratorio di eccellenza un laboratorio all'avanguardia nel quale ci sono attrezzature anche altamente tecnologiche queste attrezzature permetteranno ai nostri alunni di fare un'esperienza molto affinata proprio per quanto riguarda quelle competenze che l'enogastronomia richiede quelle competenze richieste dal mondo del lavoro quindi hanno la possibilità già di lavorare in un ristorante all'avanguardia questo laboratorio speriamo che ci permetterà anche di poter realizzare dei progetti ambiziosi come potrebbe essere quello dell'apertura di un ristorante didattico essendo un laboratorio tutto a norma si potrebbe mettere nelle condizioni i ragazzi anche di organizzare un discorso di auto imprenditorialità che fa parte proprio di un progetto di eccellenza della nostra scuola sono sempre più gli iscritti rispetto agli anni passati beh diciamo che sono il numero degli iscritti è stazionario nel senso che sono sempre tanti negli anni se si avverte un piccolo calo credo che sia più per un dovuto a un calo demografico che per altro ci spostiamo a Pineto dove ci si prepara la revisione del piano regolatore generale attraverso l'attuazione del piano strutturale strategico urbanistico a seguire da vicino lo sviluppo della città sarà il consigliere delegato Alberto dell'Orletta vediamo il servizio di Alfredo Primante obiettivo revisionare l'attuale piano regolatore generale di Pineto è pronto il piano strutturale strategico con il quale l'amministrazione Verrocchio punta a dare risposte veloci alle esigenze urbanistiche che arrivano dal territorio un piano che contiene sei focus sei punti nodali che coinvergono nel miglioramento dell'attrattività turistica di Pineto senza snaturare però l'attuale assetto urbano ma recuperando il patrimonio edilizio esistente e migliorando la viabilità altro punto fondamentale è l'impiantistica sportiva e poi la sicurezza e la fruibilità delle scuole abbiamo tracciato un po' le linee anche i tempi perché abbiamo il dovere di dare risposte abbiamo la responsabilità in questo senso ma la sentiamo anche rispetto a ciò che ci viene lasciato negli anni da chi ha voluto il nostro piano regolatore in questo modo la sua pianificazione negli anni è stata vincente e si vede anche diciamo dall'attenzione urbanistica che c'è stata anche nello sviluppo territorio il consigliere che avrà il compito di seguire da vicino lo sviluppo strategico della città di Pineto e Alberto dell'Orletta il documento contiene tutta una serie di indicazioni una serie di indirizzi di obiettivi strategici che servono a migliorare la nostra cittadina questi obiettivi come possono essere realizzati o attraverso la fase ripeto della revisione generale del piano regolatore che pure è importante e pure un obiettivo di questa amministrazione o anche con degli interventi localizzati attraverso le forme dell'urbanistica contrattata è chiaro che la maggioranza dell'amministrazione ha ritenuto di individuare alcune priorità e di affrontare in maniera anticipata queste priorità Siamo allo sport apriamo con il calcio per parlare di Serie B del Pescara che prosegue a ritmi serrati la preparazione in vista della trasferta di sabato alla Rechi di Salerno dove non potranno assistere al match i tifosi del Pescara su decisione del Casmus una buona notizia per quanto riguarda i Biancazzurri è quella del recupero di Gianluca Caprari che oggi è tornato ad allenarsi con i compagni dopo i problemi che aveva avuto nella giornata di ieri anche Capitane Memusciai ha risolto dei piccoli problemi e ha lavorato con il gruppo con il gruppo scusate anche gli ultimi arrivati si tratta di Coda Pasquato e Mazzotta domani allenamento pomeridiano alle 15 sempre al poggio degli ulivi di Marina di Città Sant'Angelo noi andiamo ad ascoltare il tecnico Biancazzurro Massimo Oddo Che poterà il mercato di Pescara? Dieci 9 e mezzo nel senso quel mezzo glielo diamo se tutto finisce bene le esigenze che c'erano erano il centrale ovviamente sostituire Fiammozzi l'abbiamo fatto molto molto bene e in più è arrivata anche la sorpresa tra virgolette di Pasquato che che comunque mi rende felice perché è un giocatore di valore un giocatore che ci può dare qualcosa certo lì davanti siamo parecchi adesso però è un problema loro no non è un problema è un vantaggio nel senso che c'è tanta concorrenza sono tutti bravi i ragazzi sanno che io le mie scelte le mie valutazioni non sono mai condizionate da nessun tipo di fattore e quindi chi merita gioca noi abbiamo temporaggiato perché volevamo Coda è l'esatto contrario nel senso che il suo problema non era scendere in B voleva essere sicuro che i giochi per lui magari in Serie A non fossero chiusi l'ha detto anche Andrea Coda ha detto se io avessi avuto bisogno di un giocatore che per forza mi avrebbe dovuto fare 20 presenze cioè tutte quelle che rimanevano non avrei preso lui perché non possiamo avere la certezza del suo stato di forma dopo che ha giocato poco negli ultimi anni ha avuto qualche problema io avevo bisogno di un quarto quello che vi ho detto è sempre stata la verità io avevo bisogno di un quarto numerico giocatore affidabile un giocatore di esperienza per caratteristiche e quello che ci serviva io ho firmato un quarto tra i due anni perché volevo un progetto non volevo una cosa così quindi due anni di contratto vuol dire fare un progetto di due anni minimo l'obiettivo mio l'obiettivo personale mio è quello di provare ad andare in Serie A il secondo obiettivo la mia priorità è quella di avere ma come tutti gli allenatori delle garanzie queste garanzie sono nella mia testa cioè nel senso per me sarebbe difficilissimo portare una squadra in Serie A trovarsi in Serie A e cambiare undici undicesimi di squadra a me piacerebbe portare un gruppo di giocatori che poi sia in Serie A o in Serie B è indifferente ma un gruppo di giocatori quindi capite che è molto più facile che se si dovesse centrare un obiettivo importante è molto più facile mantenere un gruppo Parliamo del Lanciano i rossoneri si sono allenati oggi al Biondi e gli ordini del tecnico Primo Maragliulo hanno lavorato i giocatori del Lanciano sotto lo sguardo attento del patron Franco Maio che ha visitato proprio la squadra al Memmo tutti a disposizione del tecnico Frentano ad eccezione di Salviato che ancora ha le prese con l'infortunio al Fressore domani allenamento pomeridiano per la formazione rossonera e poi partenza per il Veneto in vista della gara di sabato con il Vicenza Lasciamo il calcio di Serie B parliamo di Lega Pro parliamo del momento positivo del Teramo che comunque nonostante il pareggio dell'ultimo turno ha fatto progressi ha mosso la classifica di Paolo Antonio guarda al futuro e spera che la squadra possa avvicinarsi alla zona playoff adesso sicuramente va bene abbiamo guadagnato due posizioni che però comunque ci permettono di stare un po' più sereni al ridosso della zona bassa e niente secondo me questo mese di febbraio e il mese che verrà di marzo saranno mesi che ci faranno capire se questo Teramo può ambire a qualcosa di più della salvezza cioè mi riferisco ai playoff ma adesso sì da quando il mister comunque mi dà la possibilità di scendere in campo costantemente mi sono più calato nel ruolo diciamo che mi sento più sicuro quindi riesco a dare il meglio di me anche nella prima parte sono stato adottato un po' da mezzala un po' da esterno un po' così quindi non sono andato molto bene però adesso negli ultimi mesi mi sento uno importante della squadra come sono tutti e spero che sto ripagando la fiducia del mister come ci arriviamo sicuramente carichi perché dopo passato l'anno siamo una scuola diversa ma anche con i due acquisti ci hanno dato una mentalità diversa e quindi sicuramente adesso siamo una scuola più compatta anche fuori casa e lo si è visto nella trasferta di Pisa per quanto riguarda il gol dell'anno scorso vabbè penso voglio ricordarlo però ricordo che eravamo comunque ben ricordi di una vittoria di una vittoria storica però adesso il passato è passato purtroppo quindi dobbiamo pensare a questa trasferta di sabato che di vedere importantissimo vabbè per me era un sogno sinceramente andare sia in B colteramo che comunque segnare il gol decisivo però nella mia testa sicuramente non me lo leva nessuno perché so la squadra che eravamo e so che quel campionato l'abbiamo stravinto e mi è ritardo sul campo quindi resta una bellissima gioia vera e comunque incancellabile Lasciamo il calcio parliamo di ciclismo dallo scorso 24 gennaio infatti in ritiro a San Vito Chietino il team Colpac una delle più importanti squadre dilettantistiche di ciclismo il legame con la terra d'Abruzzo già solido per la presenza del team manager Antonio Bevilacqua è stato ancora più rafforzato dalla sponsorizzazione appena annunciata con la saquella caffè tanti gli appuntamenti quest'anno su tutti la conquista del campionato italiano per una squadra che il prossimo anno approderà anche nel professionismo Andrea Costantini Antonio Bevilacqua in qualità di team manager del team Colpac avete scelto la terra d'Abruzzo un po' per le sue origini immaginiamo questo abbia inciso ma anche per stare tranquilli e avete avuto anche la fortuna di trovare un clima piuttosto mite in questo mese di gennaio per preparare questa stagione Sì sicuramente ho scelto l'Abruzzo perché è la mia terra come hai detto adesso però ho scelto anche l'Abruzzo per i percorsi perché veramente sono dei percorsi eccezionali per una preparazione per una squadra come la nostra e penso che sia proprio formidabili questi percorsi Quali sono i progetti di questa stagione e quali gli atleti su cui puntate maggiormente? Sicuramente gli obiettivi sono tanti e quest'anno cerchiamo di puntare ancora un po' in grandi ci è sfuggito il cambiato del mondo e non è una cosa facile abbiamo fatto secondi e cerchiamo quest'anno di andare ancora lì e lottare per vincere Il nostro presidente Beppe Colleone è un grandissimo appassionato di ciclismo e direi malato perché veramente segue tutte le corse con me in ammiraglia quest'anno come venticinquesimo organizziamo anche il cambiato italiano che è una grossa una grossa soddisfazione per il team Colpa che per il nostro presidente Colleone e lotteremo fino all'ultimo per riuscire a vincere la gara Tra i tanti ciclisti che avete lanciato uno degli ultimi è una bruzzese Ciccone che ora ha presso la strada del professionismo Allora parlando di Ciccone veramente lui è molto forte quest'anno ha fatto una stagione strepitosa e sono sicuro che farà grandi cose anche nel campo professionistico con il tempo però già si è adattato bene ho parlato con lui ultimamente e si trova molto bene e sono sicuro che farà vedere le sue qualità Alla Colpac non approderà mai nel mondo del professionismo è un discorso che avete provato a intavolare No abbiamo un grosso progetto un bel progetto che nel 2017 assieme alla Lampre faremo una squadra continental Lampre Colpac o Colpac Lampre da definire però il progetto già c'è e sicuramente nel 2017 iniziamo a mettere un piede nel campo professionistico Con il ciclismo siamo giunti alla termine di questa seconda edizione ma vi ricordo subito dopo la pubblicità l'appuntamento con il TG6 L'Aquila poi alle 21 non perdete Virtus Style per quanto riguarda invece l'informazione vi ricordo la terza edizione del nostro telegiornale alle 23 grazie e buon proseguimento di serata a